Eccoci qui amici rossolini, ben ritrovati, come stati? Io sto benissimo, avete visto il video questa mattina delle pagelle, se non l'avete ancora visto andate a vederlo, spero possa essere un entusiasmo contagioso così come in questo video. Sono sempre io, ho fatto la barba, nonostante i capelli bianchi sembra che ho dieci anni meno, lo so, lo leggerò anche nei commenti. Iscrivetevi qui numerosissimi ragazzi, dai, 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 che io voglio arrivare presto a 100.000 iscritti, fare un bel raduno, invitare anche Mr. Pioli, qualcuno del Milan. Lasciate un bel like qui sotto se anche voi vi siete risvegliati con la sensazione bella, bella, che questo possa essere un bell'anno per il Milan. E questa è la divisa ufficiale di Milanello, qui sotto il link in descrizione degli ultimi giorni per poterla acquistare, c'è anche quella nera. E affrettatevi, mi raccomando, cavalchiamo questo entusiasmo, indossatela poi e taggatemi sui social quando vedete il Milan, dallo stadio, dal divano, quando camminate, quando andate a lavoro, andate a fare la spesa, insomma, mi raccomando ragazzi, è bella, è bella, è bella. E dietro c'è scritto, forzami oggi più che mai, domani ancora di più. Allora, un po' sorpresa, un po' sorpresa, un focus su che sì, campo, ma anche rinnovo. Attenzione. Che sì, che ieri era molto atteso. Io avevo fatto un video dicendo, ma forse sarebbe meglio non fischiarlo, il pubblico mediamente non l'ho fischiato. Però, secondo me, è giusto anche rispettare chi la pensava diversamente, ripeto. Perché ognuno ha la propria sensibilità e obiettivamente oggi che sì si è comportato non bene, con quella promessa che non è stata mantenuta. Quindi dico, il tifo non deve essere giudicato quando comunque è sano e ha il suo sfogo positivo o negativo che deve essere rispettato quando non si sfocia in comportamenti sbagliati. Questa è una premessa che, secondo me, è doverosa. Abbiamo visto anche il video, l'ho pubblicato, ringrazio Filippo che me l'ha mandato. Filippo Ricotti, che ormai ho imparato a conoscere, dell'accoglienza di Chessy quando c'è lo speaker. Comunque applausi, che sì che ha sbagliato il calcio di rigore. Personalmente, e poi adesso parliamo del discorso rinnovo, l'ho visto un po' indietro dal punto di vista atletico, come normale che sia. Perché l'ultima partita ufficiale l'ha fatta tempo fa, più di un mese fa, un mese e mezzo fa, nella Olimpiade. Vi posso dare però il suo score, sperando di dare un contributo interessante. 61 minuti giocati, 49 palle toccate. Passaggi riusciti, 31 su 34, 91%. Passaggi chiave 1, ha fatto un cross. Lanci lunghi 7, riusciti 7. Tiri in porta 0, tiri fuori 2, di cui uno appunto la attraversa sul calcio di rigore. Drimli riusciti 1 su 1. Poi duelli aerei vinti, 6 su 8, molto bene. E possessi le palle perse 4. Una un po' sanguinosa, con un passaggio in orizzontale per Eto' Hernandez, lì è stato un po' superficiale. Poi palle intercettate 1, take el vinti 2. Insomma, uno score buono. È stata una partita di comunque tanta quantità. Lui non ha fatto ragionare, lo ha annientato Milinkovic Savic, era sempre lì a pressarlo su ogni palla. Ed è stato molto molto utile. Ripeto, ancora un po' sotto tono dal punto di vista atletico, ma è fisiologico. Ha fatto una buona partita, non ancora monumentale come il livello dell'anno scorso. Monumentale è stato ieri, secondo me, Sandrino Nostro Tonali. Poi al termine della partita c'è stato anche questo giallo, perché si è diffusa la voce, non è andato a esultare sotto la curva, è stato l'unico. Ho verificato, ho i video in mano e effettivamente lui è lì a metà campo con la pettorina verde. Gli altri vanno, lui rimane lì perché Reina, che sempre in mezzo alle scatole, anche l'anno scorso aveva fatto ridere, ricorderete, il portiere che è andato a crescere a Parigi. Dopo la partita persa dal Milan. Questa volta ha fermato che sì, e quindi che sì, rimane lì a parlare con Reina, suo ex compagno, e gli altri vanno a esultare. Quindi non lo vedo come un peccato clamoroso, perché appunto lo ferma Reina. Questa, secondo me, è la circostanza. Circolata anche la foto della stretta di mano con Maldini, credo giovedì, sì. Lui, secondo me, è un po' imbarazzato. Commentando solo la foto con Frizz, poi magari si abbracciano, non lo guardano negli occhi. Detto questo, tiene banco il discorso rinnovo. Il discorso rinnovo che, a sorpresa, può vivere di una nuova fase. Vi dicevamo comunque di un pessimismo, ma anche di un incontro che, secondo quello che ci raccontava Leonardo Martinelli, dovrebbe tenersi questa settimana. Tra Massara, non Maldini perché con Tangana non corre buonsangue, e appunto il manager a Tangana. Ebbene, si inserisce un po' a sorpresa, dobbiamo analizzare questa dichiarazione, il presidente del Milan, Scaroni. Che intanto parla di stadio, dice, dovrebbe, speriamo, essere pronto 2024-2025. Dopo ottobre, le elezioni del nuovo sindaco di Milano, l'affare si sbloccherà. Siamo fiduciosi, e poi ci vorranno sei mesi, appunto, per avere sostanzialmente la progettazione. Detto questo, su che si cosa dice? Lo abbiamo visto tutti ieri molto impegnato, come giusto che sia, perché comunque è stipendato dal Milan. Mi auguro possa rimanere al Milan a lungo. E poi, attenzione, Maldini e Massara ci stanno lavorando, mantengo un cauto-ottimismo. Cauto-ottimismo, che significa prudenza, ma anche ottimismo, quella parola che privatamente non filtra da casa Milan. E quindi, attenzione, perché se il presidente del Milan si esprime su un tema così caldo e delicato, con un concetto comunque di fiducia, allora, attenzione, significa che la partita non è finita, non è ancora nei minuti di recupero, ed inizia a guardare il secondo tempo, mettiamola così in termini calcistici. È una partita da giocare, se si esprime così il presidente del Milan, evidentemente il Milan ha ancora le sue carte da giocare, per convincere che si ha a firmare questo benedetto contratto. Poi ho provato a riportare questa ricreazione ad altri ambiti attorno al Milan, e la risposta è stata vediamo, comunque andiamoci cauti. Quindi non tanto ottimismo privatamente, ma ci proviamo ma cauti, non è facile. Invece pubblicamente il presidente del Milan dice Cauto ottimismo, che è una parola che ci fa ben sperare. Vediamo poi che sia pubblicato sui social la foto, complimenti ai ragazzi, l'hashtag sempre Milan, che comunque non sposta nulla perché lui pubblica sempre quest'hashtag. Però dai, speriamo che questa bella atmosfera di ieri possa portare a una fumata bianca, che il rigore sbagliato lo porti a farsi perdonare, diciamo così, e che questo bel progetto del Milan che si intravede, o forse un po' più di intravedere, si sta realizzando, possa farlo rimanere qui. Diciamo che sarebbe, secondo me, il rinnovo di Chessy un colpo scudetto. Nel senso che con il rinnovo di Chessy ci toglieremmo dalla testa una nuvola nera, ci toglieremmo pensieri, avremo un giocatore completamente mentalizzato e tranquillo sul Milan, avremo un ambiente sano, sereno, senza distrazioni, e avremo tutto per provare a lottare fino alla fine per lo scudetto. Che secondo me è una parola che non deve essere tabù, anche l'obiettivo deve essere ovviamente arrivare nelle prime quattro. Però poi si può alzare l'asticella, siamo partiti fortissimi, e quello che dico siamo a forti, svilupperò il tutto in un altro video ragazzi. Intanto, a sorpresa, registriamo la prima parola del presidente del Milan, su Chessy. Che impressione avete? Scrivetemelo qui sotto, che Chessy avete visto? Io intanto non ho ancora la voce, come ogni lunedì. Iscrivetevi qui numerosissimi, lasciate like, e se vi va andate ad acquistare la maglia della vostra community Milanello, ragazzi che vi voglio indossare anche a raduno di Milanello, vi voglio vedere indossata, e andate a vedere le pagelle, secondo me interessanti, più tardi magari ci rivediamo ancora, ragazzi siamo forti ma poi vi spiego anche perché. Iscrivetevi numerosissimi, tanti like, se anche voi sperate nel rinnovo del nostro presidente, in questo caso da presidente Scaroni a presidente che sì, sperando appunto si possa arrivare alla fumata bianca. Io mantengo prudenza, più che cautottimismo, prudenza, perché è quello che raccolgo, ma il presidente del Milan dice cautottimismo. Un abbraccio, ci vediamo dopo ragazzi!